L'avventura è iniziata diciamo dal semplice trekking dove col piccolo aeroplano siamo arrivati a Lupla da lì abbiamo iniziato diciamo in realtà la primissima fase di acclimatazione una volta arrivati al campo base oltre ad aver piazzato diciamo sistemato le nostre tende con tutte diciamo le comfort possibili abbiamo iniziato la prima vera fase di acclimatazione passati questi giorni è iniziata la fase 2 dell'acclimatazione consisteva nel salire i vari campi quindi C1, C2 e C3 dell'Everest e poi progressivamente siamo tornati al campo base diciamo a ritroso quindi campo 2, campo 1 e poi il campo base abbiamo sceso un po' di quota proprio per recuperare per ossigenarci il più possibile e primi di maggio spera di avere tempo buono e di tentare la vetta grazie a tutti grazie a tutti